In questa puntata, crisi idrica, mozione sull'aeroporto di Pisa, bilancio del Coricom, il festival Machiavellerie, autumnia nel futuro. L'emergenza idrica in Toscana è stato oggetto della comunicazione della Giunta al Consiglio regionale. Durante l'illustrazione all'aula, l'assessore all'ambiente Monia Monni ha sottolineato come al 30 settembre, grazie alle piogge sopra la media stagionale di quel mese, la situazione sia in leggero miglioramento riguardo alla disponibilità di acque sotterranee. Sono arrivati 4,3 milioni di euro che in realtà però andranno per opere più o meno ordinarie, dalle autobotti al miglioramento e al recupero di alcuni pozzi di attingimento, senza attaccare invece alcune questioni fondamentali nell'approvvigionamento idrico e anche a scopo agricolo e industriale dell'acqua, ovvero sia da una parte lottare agli sprechi, alla perdita che in Toscana monta a 178 milioni di metri cubi all'anno circa, il recupero ad oggi è arrivato a 38 milioni di queste perdite. Dall'altra parte irrobustire pesantemente il sistema di invasi medi, piccoli ma soprattutto grandi che affianchino Montedoglio e Bilancino e in particolar modo da questo punto di vista abbiamo rilanciato l'idea della grande diga sul Merse e potrebbe dare decine di milioni di metri cubi di acqua soprattutto alla Toscana del Sud, idea su cui il Presidente Gianni ha dato disponibilità fermo restando la necessità di un confronto con gli enti locali del territorio. Siamo a novembre, finalmente la Giunta regionale, la maggioranza guida PD, ha capito che è un tema che va attenzionato e finalmente oggi ci presenta, dopo aver chiesto a luglio, quindi diversi mesi dopo, lo stato di emergenza, ci presenta quelle che sono state le attività svolte in emergenza nel periodo estivo e ci dice che terrà e attenzionerà il tema dell'emergenza idrica con la realizzazione, purtroppo non sappiamo ancora quando, i tempi saranno lunghi, di bacini di accumulo. I dati parlano chiaro, di 4 milioni e 300 mila euro che il Ministero ha destinato alla Toscana per la gestione dell'emergenza idrica, metà sono andati a spostare autobotti di acqua da una parte all'altra della Toscana, con tutte le considerazioni che possono essere fatti. L'altra metà sono andati a interventi di natura ordinaria e questo cosa significa? Che la Regione, non da questa legislatura, ma da quelle precedenti, non ha capacità di programmazione tale da poter prevedere questi interventi ordinari nell'attività e nel bilancio di tutti gli anni. Crisi idrica, si parla di 4 milioni e 300 mila euro che sono arrivati in Toscana per fronteggiare questa criticità. Ciò che manca però, a nostro avviso, è la parola investimenti. Noi non possiamo continuare ad intervenire esclusivamente sotto un profilo emergenziale. Investimenti strutturali, programmazione, sono queste le sfide che attendono la Toscana delle quali si sente poco parlare. Faremo una legge specifica proprio per favorire la costruzione di quello che devono essere i serbatoi che, contenendo l'acqua, ci consentono di affrontare i periodi di siccità. Del resto i cambiamenti climatici sono un'evidenza così forte nel nostro tempo e oggi ho relazionato proprio sul fatto che abbiamo ottenuto 4 milioni e 2 dal governo nella dichiarazione in stato di siccità all'inizio di agosto. Questo è stato un risultato positivo, ricordo sui giornali, veniva ma come mai nella pianura padana 5 regioni hanno ottenuto risorse e nel centro Italia non è avvenuto così. Ecco, nelle settimane successive, in realtà, quello che sono state le esigenze che abbiamo documentato e che portarono anche in Toscana lo stato di calamità da un punto di vista regionale e poi la richiesta dello stato di emergenza a livello nazionale, hanno trovato soddisfazione. L'agricoltura ha chiaramente come fondamento la risorsa idrica, ma allo stesso tempo mettere in campo una serie di misure per efficientare l'utilizzo della risorsa, gli invasi e tutta una serie di altre misure per evitare che ci sia lo spreco di questa risorsa sempre più preziosa diventa fondamentale. Ecco perché abbiamo chiesto anche all'assessore Saccardi di orientare le risorse del piano di sviluppo rurale che sono in previsione per i prossimi anni, molto per sostenere la realizzazione di opere che permettano alla nostra agricoltura di avere acqua e di non sprecarla in nessun modo. Serve fare degli invasi, serve ovviamente fare degli interventi, serve fare le opere pubbliche e credo che sia positivo il fatto che in alcuni casi si sia già avviata la fase di progettazione rispetto alla realizzazione di alcuni invasi che nei territori possono dare delle risposte ma nel contempo serve anche finanziare interventi di natura privata a favore per esempio delle aziende agricole per cercare di dare risposte autonome e nel contempo aumentare gli interventi da parte dei consorsi e della regione stessa per cercare di rendere la nostra regione, di fare degli invasi e delle infrastrutture in grado di rispondere in termini infrastrutturali a quella che purtroppo è un evidente cambio climatico con il quale dovremo convivere nei prossimi anni. Inserire lo scalo di Pisa tra quelli giudicati strategici nel piano nazionale aeroporti lo chiede una mozione, primo firmatario Andrea Pieroni. Sì, come sempre anche ogni volta che parliamo di aeroporti in consiglio regionale tende a riaffermarsi sempre questa sorta di campanilismo che vede Firenze e Pisa quasi contrapposte. Io credo che oggi sia stato chiarito in modo inequivocabile come per parlare di sviluppo della Toscana si debba parlare necessariamente di un sistema aeroportuale integrato. Io credo che su questo non si debba più tornare, anzi credo che tutte le forze politiche debbano unire il loro sforzo nel cercare quanto più di sollecitare da parte di Enac ma anche da parte diciamo del nuovo governo un intervento tempestivo che metta una parola decisiva sia su Peretola perché non possiamo continuare a fare a meno a Firenze un aeroporto che stia dentro di questo nome e quindi di un piano di investimenti serio sia naturalmente su ciò che riguarda Pisa. Noi dobbiamo parlare di un sistema aeroportuale integrato. Io credo che a questo punto il dibattito politico sia ormai chiaro, servono semplicemente azioni concrete anche da parte di Toscana Aeroporti. Il problema è stato l'interpretazione che taluni hanno dato, che poi è girata sulla stampa sul fatto che l'aeroporto di Pisa non avrebbe avuto riconoscimento adeguato nel piano strategico dei voli approvato dall'Enac a livello nazionale. Ma in realtà se guardiamo bene quel piano vi è l'indicazione dell'aeroporto di Pisa come quello di Firenze e se a un certo punto nelle aree strategiche si identificano all'aeroporto, è stato citato quello di Firenze perché è gestito dalla stessa società Toscana Aeroporti che gestisce Pisa e Firenze quindi è stato un po' considerato quello come aspetto di riferimento. Comunque nel documento che abbiamo approvato io sono un fermo sostenitore e chiediamo al Ministro Salvini di inserire fra gli aeroporti strategici sia quello di Firenze e Peretola sia quello di Pisa Galilei. Sì, tanto si è dibattuto in queste settimane perché il piano nazionale degli aeroporti ha tolto Pisa come aeroporto strategico della Toscana e ha lasciato esclusivamente Firenze. Abbiamo discusso ora una mozione e all'interno della mozione abbiamo portato un emendamento dove chiediamo alla Giunta regionale che presenti delle osservazioni al piano nazionale degli aeroporti che riporti Pisa a fianco di Firenze perché noi riteniamo che entrambi gli aeroporti soltanto in sinergia insieme sono strategici per la Toscana e non c'è un aeroporto di serie A o un aeroporto di serie B. È inaccettabile che a distanza di anni si continuino a prendere in giro i toscani con il balletto degli aeroporti di questa maggioranza che da una parte nega quello che fa e dall'altra non riesce a fare quello che dice. Ed è inaccettabile che non si sia avuto una risposta a un'interrogazione innanzitutto dove si chiedeva una cosa chiara. La bozza del piano aeroporti dice che Pisa non è più aeroporto strategico nonostante le promesse di molti anni mentre Firenze lo è. Fino al 21 novembre c'è la possibilità di presentare delle osservazioni ad Enac per questo e tutto ciò che ci siamo sentiti dire dal presidente Gianni è che è stato un errore terminologico e che semplicemente tutti noi non abbiamo capito quello che in realtà voleva dire il piano solo lui l'aveva capito e noi ci stiamo attaccando in questo momento a questioni di lana caprina legate a Guelfi Ghibellini piuttosto che a un'incomprensione di quelli che sono i testi. Questa volontà ha determinato che Firenze e Pisa fossero insieme aeroporti strategici della Toscana e dell'Italia centrale questo fa sì che i due scali possano svilupparsi in maniera complementare in maniera integrata senza farsi inutilmente concorrenza per far crescere la Toscana insomma la Toscana per volare ha bisogno di due ali uno è l'aeroporto Galilei di Pisa l'altro è l'aeroporto di Firenze senza una di queste ali rischio che la Toscana rimanga a terra se è vero come ci stanno dicendo ormai da anni che il sistema aeroportuale toscano è un sistema complesso all'interno del quale stanno sia lo scalo di Firenze che lo scalo di Pisa noi chiediamo che la regione toscana si faccia portavoce nei confronti di ENAC di inserire anche Pisa tra gli aeroporti strategici italiani dopodiché la cosa fondamentale sulla quale noi vogliamo delle risposte chiare è che Toscana Aeroporti presenti il cronoprogramma rispetto al piano attuativo del masterplan dell'aeroporto di Pisa la nostra posizione è che il sistema aeroportuale toscano possa lavorare insieme in maniera congiunta Firenze e Pisa sono di fatto uno scalo unico si è concepite nel contesto europeo serve rafforzare Firenze serve fare la nuova pista per rendere più competitivo l'aeroporto del capoluogo integrarlo sempre di più con Pisa è costruire un sistema aeroportuale toscano che sia in grado di competere a livello nazionale ed internazionale bilancio del Corecom nel mandato di Enzo Brogi siamo nati vent'anni fa quando ancora c'erano i telefoni e i gettoni e il PC era uno storico e nobile partito dell'altro secolo quindi abbiamo provato a modificare il modo di comunicare il nostro lavoro noi siamo una vedetta della comunicazione a 360 gradi cerchiamo di tutelare i cittadini per la difesa qua dietro ci sono quintali di pratiche che cittadini e aziende si sono rivolte a noi per tutelarsi verso difetti, errori e ritardi di comunicazione ma poi anche sulle insidie e le opportunità che la rete dà a tutti in modo particolare ai giovani e penso per esempio al patentino digitale il modo di comunicare oggi richiede grande attenzione, una grande cultura perché è vero la rete è un luogo di grande opportunità ma è anche un luogo in cui le ragazze e i ragazzi possono trovare pericoli allora il compito delle istituzioni è quello di formare ragazze e ragazze che sappiano utilizzare i nuovi strumenti di comunicazione il festival Machiavellerie celebra l'Europa a 30 anni dal trattato di Maastricht la rassegna culturale si terrà tra Firenze e San Casciano in Val di Pesa dal 17 al 20 novembre per noi è importante ribadire l'importanza dell'Europa anche attraverso quelle che sono le prime tracce storiche dell'Europa intesa come realtà politica ma anche come modo di tenere insieme popoli attraverso non solo una cultura di pace ma anche una profonda condivisione di quelli che sono i valori di base di tutti i nostri paesi che ora fanno parte dell'Europa come anche in parte era il sogno di Machiavelli o indicava come strada fondamentale per uno sviluppo nel segno della pace ma anche nel segno della forza di un continente che non combatteva contro un primato o contro altri territori e altri continenti di uguale importanza ma che aveva bisogno di rafforzare l'idea di questo continente e di questa intesa tra paesi Si scrive Autumnia, si legge fiera dedicata ad agricoltura, ambiente e alimentazione l'appuntamento è dall'11 al 13 novembre nel centro storico di Figline Valdarno dove in piazza si potranno degustare e acquistare prodotti agroalimentari del territorio prendere parte a incontri tematici e scoprire le ultime novità del settore agricolo Sicuramente quest'anno torniamo a un'edizione che è tradizionale che ritorna alla normalità dopo gli anni difficili del Covid e dopo l'edizione dello scorso anno con delle restrizioni necessarie quindi un grande ritorno di Autumnia nel centro storico di Figline e un momento per riscoprire di fatto il territorio perché Autumnia parla di ambiente, di sostenibilità ma parla soprattutto dell'eccellenza e non gastronomiche in ambito agricolo che il nostro territorio può offrire ed è anche un momento di grande attrattiva per il turismo perché ogni anno sono decine di migliaia visitatori della manifestazione e questo ci permette di far conoscere di più Figline Incisa anche a chi viene da fuori un'edizione che abbiamo voluto dedicare al futuro perché Autumnia parla spesso di come vogliamo e come vediamo il mondo nel futuro e quest'anno l'edizione si chiama proprio Domani è già qui perché già da oggi lavoriamo sul domani e quindi io ringrazio il Consiglio regionale in particolare il nostro consigliere Cristiano Benucci e il Presidente Antonio Mazzeo per l'opportunità di presentare qui Autumnia perché la Regione è uno sponsor importante della manifestazione da sempre e ringrazio anche tutti gli sponsor le aziende del territorio che ci permettono di fatto di organizzare Autumnia quasi a costo zero per l'amministrazione grazie al sostegno che viene proprio dalle attività economiche locali questo è un segno importante perché significa che non solo c'è affezione verso la manifestazione ma ci si crede tanto e si vuole investire proprio sulle bellezze e sulle particolarità di Figline Incisa quindi un'edizione che speriamo davvero possa vedere tantissime persone venirci a visitare e quindi l'augurio è che nei prossimi giorni si possano vedere brulicare le vie del centro come purtroppo non era potuto accadere negli anni del Covid a a a a a Grazie a tutti.